Colte in fragranza di reato finiscono in manetta e si tratta di tre persone di San Martino, Valle Caudina. I carabinieri hanno arrestato un ventenne, un cinquantenne ed un sessantaduenne, tutti del posto e con a carico precedenti di polizia, principalmente per reati contro il patrimonio. L'operazione è frutto di specifici controlli che rientrano nell'ambito di una serie di verifiche che mirano a prevenire e reprimere i reati, in particolare quelli di tipo predatorio, verso i quali l'arma continua incessantemente a porre attenzione nei comuni irpini, implementando al massimo, come disposto dal comando provinciale, l'attività di controllo sul territorio. Ed è proprio grazie a tali servizi che i militari della stazione di San Martino, Valle Caudina, hanno tratto in arresto e in flagranza i tre uomini accusati di furto di materiale ferruso. Durante un servizio perlustrativo, i carabinieri hanno notato strani movimenti e avvertito rumori provenire dall'interno di una ditta di smessa. I tre sono stati sorpresi ad asportare decine di lastre in ferro appena smontate da un nastro trasportatore. L'intervento dei carabinieri ha consentito di bloccare e trarre in arresto i tre e di recuperare interamente l'area furtiva, che in parte era stata già caricata a bordo di un autocarro. Condotti in caserma dopo gli accertamenti di rito, su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino, sono stati sottoposti ai domiciliari. L'area furtiva, che avrebbe fruttato un ragguardevole profitto, qualora è messa sul mercato clandestino del metallo, è stata restituita alla mente di rito. Grazie. 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 Grazie.